regata 222 terminata praticamente scusate tanto sono da solo questo è pegaso mitici pannelli solari senza di quelli il pilota nke non si ricarica insomma regata 220 miglia genova aeroporto gallinara con bel vento abbiamo viaggiato il video poi gallinara tino piattone faro del tiro scogliettino manto stra 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 piattone giro di bergeggi stra piattone arrivo con 3 4 nodi e piattone all'arrivo quindi sapete che va bene così è in linea con quelle che facevamo due anni fa ma due anni fa eravamo un'altra livello un'altra preparazione e quindi prendiamoci portiamo a casa ora sappiamo dove ripartire ciao da pegaso ciao 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 Regata terminata, in maniera regata rassetto controllo dell'imbarcazione è fondamentale per quindi un giornetto che stiamo lavorando, anche se la bacca è tenuta benissimo. E quindi andiamo a sanificare. Ciao ragazzi, io sanifico.